ciao a tutti e benvenuti su gallio play in questo video vi spiegherò come ottenere trofeo hai bisogno di una mentina in minecraft il requisito per ottenere questo trofeo è di raccogliere il respiro del drago in una bottiglia di vetro anche se a mio parere a me sembra più il vomito del drago ma vabbè ok per ottenere questo trofeo dobbiamo prima di tutto avere tre o ne basta una bottiglie di vetro e per farle bisogna cuocere la sabbia in modo da ottenere il vetro e poi tramite tre blocchi di vetro possiamo crearci le nostre bottiglie in questo io vi mostro come come crearle perché comunque sono andato nel land che non ce l'avevo quindi una volta raggiunti nel land e una volta ottenute le nostre bottiglie di vetro ci basterà recarci dal drago aspettare che effettui la sua il suo respiro come viene chiamato e una volta che ci sarà tutta quelle stelline viola per terra ci dovremo avvicinare e come si fa con l'acqua a raccogliere il respiro basta riempirne una e il trofeo vi sarà sbloccato tutto qui molto semplice niente di difficile e complicato bene per questo video trofeo tutto io come al solito vi chiedo di mettere mi piace di commentare di iscrivervi e ci vediamo sempre come al solito al prossimo video trofeo di minecraft ciao